Allora, io lo so che mi volete bene, quindi dovrete sopportarmi, così come si sopporta Natale e lo zio strano che ha tutte le sue fisse. Ecco, lo zio strano sono io e le fisse sono il futuro, la società, la tecnologia, il rapporto tra gli uomini e le macchine. È uno di quegli editoriali. L'altro giorno ho messo su Instagram una serie di ritratti che non sono tra quelli che tanti di voi mi hanno mandato negli anni e che conto di stampare e appendere quanto prima, quando mi sarò finalmente trasferito nella casa nuova, ma sono stati fatti da una macchina, un'intelligenza artificiale che in 20 minuti mi ha ritratto 200 volte in molteplici stili e molteplici pose. E ho pubblicato alcuni di questi disegni per farveli vedere, ma come a sorpresa il tutto è diventato oggetto di dibattito e ho ricevuto varie mail sul tema e le ho lette tutte. Oggetto del contendere, appunto, l'arte e le intelligenze artificiali. Premetto che io non sono preoccupato per lo stato dell'arte, perlomeno non tutta l'arte, gli artisti non andranno da nessuna parte. Semplicemente i più bravi di loro continueranno a produrre, probabilmente su supporti fisici, così come i falegnami e i artigiani, ancora esistono in un mondo industrializzato, ma dedicati solo ad alcuni tipi di prodotto, di certo non fanno concorrenza a Ikea, mentre molti altri, quelli meno specializzati, o affiancheranno le loro capacità alle nuove tecnologie, adattandosi, oppure spariranno. È una storia che si è ripetuta moltissime volte, specie dalla rivoluzione industriale ad oggi. Eppure quella reazione estremamente negativa mi ha colpito, e lo capisco, anche per me è destabilizzante che le intelligenze artificiali iniziino addirittura a fare i video. E ho quindi iniziato a ragionarci sopra. Oggi il Guardian, quindi un giornale britannico, internazionale, anche un punto di riferimento per i colleghi di tutto il mondo, si occupa di una cosa che a prima vista sembrerebbe specifica di un territorio, cioè una decisione che è stata presa a San Francisco, in California. Dopo circa una settimana di dibattito, infatti, l'amministrazione della città ha accettato una proposta avanzata dalla polizia locale, la stessa richiesta che era stata precedentemente avanzata, ma respinta a Oakland, lì vicino. Cioè di autorizzare, nelle operazioni di polizia, l'impiego di robot in grado di utilizzare la forza letale, che significa sostanzialmente robot che sparano. San Francisco ha autorizzato questa cosa, e quindi la vedremo accadere. Ora, i robot in questione dovrebbero assomigliare a questi che vengono comunemente impiegati per disarmare gli esplosivi. E dico questo per evitare che vi immaginiate Terminator, Robocop o qualcosa di vagamente umanoide. Anzi, al contrario, sembra si tratterà sostanzialmente di fucili su ruote, il cui utilizzo a San Francisco potrà essere autorizzato solo da ufficiali d'alto grado. Ma, ovviamente, la questione è controversa, perché c'è chi si sta già immaginando un futuro in cui un robot non sarà così, quindi un carretto armato, ma così, cioè una macchina come quella di Boston Dynamics in grado di correre, saltare, arrampicarsi e fare le acrobazie. E c'è ovviamente il discorso spersonalizzazione. Mentre, infatti, alcuni ritengono che impiegando robot in contesti ad alto rischio si minimizzi l'errore umano dovuto alla paura della gente di perdere la vita, perché qui al massimo si fanno danni a un robot telecomandato, dall'altra c'è un discorso di empatia che viene a mancare, perché è abbastanza facile immaginare che per l'eventuale operatore l'uso della forza letale sia più probabile se non sente alcuna connessione umana con la persona da fermare. Empatia che già in alcune situazioni tende a mancare, ma è estremamente difficile provare se l'operatore è seduto in una scrivania e vede tutto da un monitor. Cosa accomuna queste due tecnologie? Quella dell'intelligenza artificiale che fanno cose, disegna cose, e quella dei robot armati che andranno a contrastare i vari sparatori? Che per quanto non ci piacciono, e per quanto ci siano movimenti che si oppongono e chiedono normative, limiti, leggi, anche giustamente un mio amico artista mi ha scritto proprio ieri, anzi scusa se non ti ho ancora risposto, mi ha scritto mentre registravo, scusami. Noi lo sappiamo che in futuro non può che andare tutto in quella direzione lì, perché i benefici sono tantissimi, abbattimento dei costi dell'arte, a detrimento ovviamente degli artisti, e abbattimento dei rischi nella pubblica sicurezza e magari anche nei conflitti, a detrimento ovviamente di un sacco di tutele che vengono messe a rischio, specie in luoghi nei quali certi diritti vengono dopo altre cose. Stiamo andando lì insomma, e lo sappiamo, e forse è la velocità a farci paura, perché è una cosa da immaginare questi cambiamenti nel futuro, i computer che parlano, pattugliano le strade, una cosa è rendersi conto che quel futuro è sostanzialmente già arrivato, e fatichiamo ad accettarlo, fatichiamo anche a capirlo, forse. In attesa che l'arte del futuro sia fatta solo da macchine quindi, prima di procedere vi ricordo giusto un secondo di Hey Ya, il brand d'avigliamento che ho fondato anni fa e che promuove i miti e le leggende della Sardegna. Perlomeno prima che pure sto posto finisca per diventare un sasso con sette persone sopra, perché per quanto riguarda le culture il pericolo è sempre quello lì, cioè che non ci sia più nessuno a tenerle in vita. Ecco, noi facciamo il nostro affidando ad artisti veri il compito di reinterpretare quel mondo e trasferirlo su dei capi che abbiano al centro la qualità e la sostenibilità. Sotto Natale, quindi adesso, Hey Ya vende dei box natalizi che contengono vari oggetti che risultano quindi scontati singolarmente, sono personalizzabili e ottimi per fare un regalo a qualcuno, farvi un regalo da soli. E se sembra che ve lo dico troppo in anticipo è perché ogni anno c'è il problema di chi arriva tardi, non trova più niente e non riceve le cose per tempo, perché se c'è una cosa che la tecnologia sta cercando di migliorare, ma ancora non ha risolto, è l'ingorgo natalizio della logistica e i corrieri che si incasinano, la roba che vi arriva nel 2023. Quindi heyastore.com oppure potete cliccare il link in descrizione. Ad un certo punto arriviamo alla ragione del titolo del video, quindi preparatevi, ma prima togliamo un attimo la testa dal sacco perché è un po' che non capita di parlare degli aiuti esteri all'Ucraina e oggi abbiamo ben due occasioni per farlo. La prima riguarda l'Italia e l'invio di Armia Kiev, mentre la seconda ci fa spostare a Bucharest in Romania, dove la Nato sta valutando come incrementare il proprio aiuto, sia nel livello di armamenti, sia anche nella ricostruzione dell'infrastrutture, prime ormai da tempo tra gli obiettivi di Mosca. Quindi prima, come direbbe Alessio in grandi linee, partiamo dall'Italia. Lunedì due senatori, Tilde Minasi per la Lega e Roberto Menia per Fratelli d'Italia, hanno presentato un emendamento a un decreto legge varato a inizio novembre, di cui loro stessi sono relatori, che tra le altre cose trattava la partecipazione di personale militare italiano alle iniziative della Nato. Bene, l'emendamento proposto avrebbe prorogato sino al 31 dicembre 2023, quindi tra un anno, la fornitura di armia all'Ucraina. E dico avrebbe perché l'emendamento è stato ritirato a causa di alcune contestazioni delle opposizioni. Queste contestazioni vertono nel concreto su due linee. La prima è che il decreto si occupasse anche di alcuni aspetti dell'approccio italiano in Ucraina, ma che non si trattasse esclusivamente di questo, anzi fosse in realtà piuttosto generico e quindi non adatto a una decisione importante come il coinvolgimento, per quanto indiretto, in un conflitto. Fate conto, infatti, che appena il secondo articolo del documento riguardava il servizio sanitario della Regione Calabria, mentre il terzo riguardava questioni interne all'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco. Quindi più voci nell'opposizione hanno chiesto che alla questione fosse dedicata un approccio diverso, con anche più tempo per un eventuale dibattito parlamentare. Poi, altra ragione delle contestazioni è che proprio ieri, alla Camera, i deputati avevano iniziato una discussione generale sul tema guerra, in cui quattro gruppi dell'opposizione, quindi il Movimento, il Terzo Polo, il PD e l'Alleanza Sinistra Verdi, avevano presentato quattro diverse mozioni che servono a dare un indirizzo politico al governo su come affrontare una determinata questione. Per quanto non siano vincolanti manco per niente, ma neanche a dirlo, e servono piuttosto ai partiti per parlare un po' di sé, ecco. Il Movimento, ad esempio, ha chiesto a Palazzo Chigi di coinvolgere le Camere prima di decisioni sensibili sul conflitto, compresa la fornitura di Armia Kiev, cosa sulla quale Conte si è comunque in genere detto contrario. Il Terzo Polo chiedeva al contrario di continuare con la fornitura, in quest'unico caso quindi nulla di discordante con l'emendamento e la volontà del governo. Il PD spingeva invece per un percorso diplomatico verso una conferenza di pace, pur dando assistenza necessaria, che potremmo dire è una sintesi delle due precedenti posizioni, mentre l'Alleanza Verde Sinistra impiegava il governo a interrompere l'invio di armi, punto e basta. Quindi stavolta in netto contrasto con le decisioni della maggioranza. Ora, al netto del fatto che in quasi un anno nessuno mi è riuscito a spiegare in che modo l'Italia, pezzo importante ma non fondamentale né eccessivamente influente dell'Alleanza Atlantica, potrebbe porsi come interlocutore di pace con la Russia, pace che la stessa Russia non vuole, l'Ucraina non vuole e noi manco riusciamo a far valere la nostra voce in questioni vicinissime come quelle del Nord Africa, se l'emendamento fosse stato accettato, questo avrebbe evitato in toto il confronto con il Parlamento su un tema comunque sensibile. Anche se c'è da dire, non per difenderla Meloni, ma insomma i numeri anche in Parlamento sono abbastanza schiaccianti. Non è che ci sia il rischio che una cosa del genere non passi. Ecco, la maggioranza è ancora in piena luna di miele. Passa tutto, passa ogni cosa in questo momento. È così che funziona. Ciononostante, il ministro della difesa Crosetto ha comunque rassicurato i parlamentari dicendo che Palazzo Chigi non si è mai nascosto sulle necessarie autorizzazioni per l'invio di mezzi e armamenti e anche il ministro per i rapporti con il Parlamento, Ciriaco, ha assicurato che se le opposizioni garantiscono la conversione in legge entro il 31 dicembre, il governo prenderà in considerazione l'ipotesi di fare un decreto ad hoc solo sulle armi. Anche se pure lì, diciamo, solo il decreto è comunque immediatamente operativo e poi, nel caso le maggioranze si opponessero, comunque passerebbe ugualmente. È una danza, diciamo, anche se di danze parliamo più approfonditamente nel prossimo blocco. In tutto il trambusto, comunque, nel frattempo, pare che la maggioranza della Camera abbia approvato una propria mozione che, tra le altre cose, include la proroga dell'invio delle armi e che è stata approvata oggi stesso. E, attenzione, anche le mozioni già citate di Terzo Polo e PD hanno avuto un riscontro positivo, mentre sembra siano state rifiutate le altre due, quelle di Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Stando poi alle ipotesi, è possibile che il governo vari già giovedì, cioè domani, un testo ad hoc in merito, per quanto, viste le posizioni dei vari partiti, una proroga di invio alle armi sia estremamente probabile. E quindi, di nuovo, qua sono i partiti che parlano più al loro elettorato che tra loro, sostanzialmente. È tutto posizionamento. Proiettandoci ora su un livello più internazionale, è comunque importante notare come discussioni simili stiano avvenendo anche internamente alla Nato. In questi giorni, infatti, si sta svolgendo un vertice dell'Alleanza Atlantica a Bucharest, appunto, in Romania, dove sono già emerse alcune questioni piuttosto rilevanti. Ad esempio, l'Alleanza si è impegnata a inviare più armi all'Ucraina, ma non solo, anche a riparare le infrastrutture energetiche, ormai da tempo gli obiettivi principali della strategia russa, sostanzialmente si fa per evitare che gli ucraini muoiano di freddo. A questo proposito, il segretario generale Jen Stoltenberg ha tenuto un discorso in cui ha ribadito il sostegno dell'Ucraina a Kiev, sino a che ce ne sarà bisogno, dice, accusando la Russia di utilizzare l'inverno come un'arma da guerra. E anche il ministro britannico agli esteri, James Cleverly, ha affermato come la Russia stia utilizzando il gelo come strumento di sottomissione. A causa degli attacchi missilistici, tramite missili e droni, infatti, pare che tra il 25 e il 30% delle infrastrutture energetiche ucraine siano state danneggiate, almeno secondo una stima statunitense. E al momento milioni di persone risultano senza energia, senza acqua e senza riscaldamento. E oggi a Kiev la minima è stata meno 6 e la massima è stata meno 1. Stando alle convenzioni di Ginevra, trattati internazionali che si occupano di vittime di guerre, questioni umanitarie, tra le altre cose, questo tipo di attacchi potrebbe essere quindi configurato come un crimine contro l'umanità, ipotesi, peraltro, su cui i paesi del G7 hanno già assicurato svolgeranno delle indagini, per quanto ci vorrà tempo prima di arrivare a una conclusione, immagino. E nel frattempo, invece, l'Ucraina continua a fare pressione per avere più armi e più supporto. E il ministro degli esteri ucraino ha chiesto, durante l'assemblea, di accelerare i tempi per quanto possibile, ringraziando il sostegno internazionale, ma al tempo stesso rimarcando come la guerra sia ancora in corso e come sia quindi fondamentale procedere in fretta. E il New York Times, comunque, riporta come le discussioni della Nato siano state dominate negli ultimi 8 mesi dall'approvvigionamento di armi a Kiev e di come, invece, ora la scena sia condivisa con tutte le questioni energetiche e questo ci fa capire l'impatto che i danni alle infrastrutture hanno avuto e continueranno ad avere sulla vita dei civili, perché è davvero una situazione gravissima, senza precedenti. Altro indicatore è poi l'impegno economico degli Stati Uniti in merito, dato che proprio ieri i funzionari statunitensi hanno annunciato il dispiego di altri 53 milioni di dollari all'Ucraina solo per riparare la rete elettrica, cercando al tempo stesso di mobilitare anche gli alleati per fare una cosa simile. E quindi, al solito, vanno bene le critiche all'Occidente, agli Stati Uniti, alla Nato, tutto quello che vogliamo, però non dimentichiamoci chi sta facendo qualcosa per far morire gli ucraini di freddo, chi sta utilizzando le proprie risorse per impedirlo e chi ancora si sta sostanzialmente facendo gli affari propri. In chiusura vorrei parlare un attimo della polemica che sta venendo alimentata in questi giorni nei riguardi di un'iniziativa promossa da un liceo artistico di Empoli, il Virgilio, che ha organizzato degli incontri per insegnare e promuovere un tipo di danza che si chiama voguing, lo cui particolarità, attenzione, è l'essere nata e cresciuta all'interno della comunità queer statunitense. Quindi, dove stiamo andando a parare? Ma è ovvio dove stiamo andando a parare. Stanno cercando di inculcare la cultura gender nei nostri giovani. Dai, che ne parliamo! Dai, che ci diver... Che divertimento! Hm? Che... Novità! Ora, so cosa state pensando, è l'ennesima polemichetta italiana basata su un certo tipo di stampa. Perché ce ne stai parlando? Perché rappresenta l'esempio perfetto di due opposte tendenze che tendono a rendere il dialogo impossibile quando riguarda questioni di un certo tipo. La prima, la tendenza in gigantina, è una questione a partire dal nulla, anche a costo, a volte, di forzare i fatti oltre il ridicolo, mentre l'altra, e proprio a causa di questa forzatura, si tende a mettere da parte problematiche che magari esistono, ma che vengono invece seppellite nella polarizzazione e nelle urla reciproche, cancellando dei discorsi che ci starebbe fare, ci sarebbe bisogno di fare, ma non si possono fare. Prima ancora dei fatti, comunque, due parole sul voguing per capire di cosa parliamo. Facciamoci una cultura sul voguing. Semplificando molto, si tratta di una danza nata a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 80 a New York, principalmente all'interno della comunità queer latina e afroamericana, e si basava all'inizio sull'imitare le pose plastiche delle modelle della rivista di Moda Vogue, da cui prende il nome, e si è poi evoluta e differenziata, acquisendo anche una certa fama dopo essere stata popolarizzata da Madonna nel video della canzone Vogue, appunto. Ora, inutile fare un trattato di storia della danza, non ci interessa, ma quello che vorrei fosse chiaro è che si tratta di un fenomeno culturale dall'impronta fortemente queer, e che ha la sua base, proprio nei suoi fondamenti, quindi è vera questa cosa, l'idea di rompere la codifica classica degli stereotipi di genere, aprendosi a una flurità di stili e di espressività. Tanto più che ha un certo grado di sovrapposizione con la cultura drag, che fa di quella spinta uno dei suoi punti focali, diciamo. Perché è importante fare queste specifiche? Perché, tornando al liceo di Empoli, l'accusa che viene mossa l'iniziativa è che gli studenti siano stati costretti a scambiarsi i vestiti per interpretare il genere opposto. Accusa è peraltro mosse, e lo dico perché poi mi accusate di tirar dentro notizie da due persone che urlano su Twitter, da Fratelli d'Italia, principale partito di governo, per voce della deputata Chiara Laporta e del capogruppo consigliare di Empoli, Andrea Poggianti, che hanno presentato un'interrogazione al ministro dell'istruzione Valditara. Hanno presentato... al ministro? Ah? Interrogazione di cui alcune testate, come il giornale, dicono di essere in possesso. Quindi, qual è l'accusa? Come detto, quella di obbligare i ragazzi di questo liceo al cambio di vestiti e dei ruoli di genere durante le ore di lezione, asserendo poi che la cosa avrà addirittura un impatto sui loro voti, in quello che viene posto come tentativo di diffusione della temuta teoria gender. Ora, cerchiamo di districarci nella questione e parliamo dei fatti. C'è qualcosa di vero nelle affermazioni fatte dalla porta? Se ci basiamo solo sulla circolare interna del liceo, che è un documento pubblico che ho letto, la risposta non vi stupirà. Ma è no. Nella circolare, indirizzata a docenti e studenti, dalla terza alla quinta, si parla infatti di iscrizioni, quindi su natura volontaria, per delle lezioni di due ore sulla teoria pratica del voguing, spiegando che si tratta di un'iniziativa in linea con le direttive ONU sulla parità di genere e di inclusione, senza che vengano specificati, evidentemente questa cosa va evidenziata, cambi di vestiti o cose strane. La cosa curiosa, se vogliamo, è però che nella circolare, nel titolo, si chiarisce subito che si tratta di un ballo della comunità LGBT, quindi si mettono le mani avanti, anche perché altrimenti nessuno si sarebbe accorto di nulla. Da qui in poi decifrare cosa sia accaduto è un po' complesso. Si accusa la professoressa di educazione fisica di aver voluto a tutti i costi rendere il corso obbligatorio e di aver aumentato l'area di scapito delle lezioni classiche, il tutto all'oscuro dei genitori, anche se qui si parla di un liceo e non di un asilo, e con lo scopo ultimo che sarebbe stato l'indottrinamento per sostituire le identità sessuali degli studenti. Di nuovo, sono adolescenti comunque, non neonati, dalla terza alla quinta. Cioè, è un po' complesso fare delle cose di nascosto. Dal conto suo, la dirigente dell'istituto risponde invece che si è trattato di una strumentalizzazione, che non esiste alcun obbligo, i ragazzi sono sì tenuti a essere presenti, essendo ore di educazione fisica, ma possono ovviamente rifiutarsi di partecipare e non debbano scambiarsi i vestiti, ma portare dei semplici oggetti di scena da casa. Bene, arrivati a questo punto, la verità è che non sappiamo cosa sia effettivamente successo, ma vi dico la mia. Qualcuno ha visto il LGBT nel titolo della circolare, si è andato a cercare cosa fosse il voguing, ha visto delle competizioni, che se state guardando sono come questa qui, ed è esploso il panico da indottrinamento gender, unito magari allo zelo della prof che potrebbe aver cercato di convincere gli studenti a fare sta roba qui. Che insomma, se gli adolescenti di oggi sono come quelli di quando era adolescente io, saranno stati difficili da convincere in molti casi, anche se poi non immaginatevi di come i video che avete appena visto. Quella è una competizione. Le lezioni di danza sono più simili a questa roba qui. Sono degli studenti che fanno lezioni di danza, insomma. Fun fact, comunque, questa iniziativa è al secondo anno di implementazione, il che evidenzia come sembri trattarsi di una polemica costruita, sostanzialmente, sul nulla. Il problema è che, se anche avessimo voluto avere una discussione costruttiva in merito, chiederci se sia sano insegnare danza durante le ore di educazione fisica, se abbia senso scegliere una danza così genderless, o una molto più tradizionale, di ruolo, come i balli di coppia, che ne so, non possiamo farlo, perché quando si monta una polemica fatta sugli estremi, le possibilità di discorso svaniscono e diventa tutto o bianco o nero. Quindi, godetevi questi ultimi secondi di danza, che in realtà non ho idea di cosa siano, perché li sceglie il montaggio, anzi, prendetevela con la montatrice, se non vi piacciono, e niente, ci salutiamo qui e al massimo proveremo ad avere una discussione nei commenti. Ma mi aspetto che anche lì c'è. E questo era anche tutto quello che avevo per voi per oggi, grazie per aver guardato, se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube, vi ricordo le box di EIA che sono... O per me faccio questo gesto a prescindere, io entro al bar, chiedo un caffè e faccio questo gesto, ma è proprio automatico, è un po'... e la gente fa youtuber, nulla di tutto quello che sto dicendo è vero comunque, è tutto falso, è tutta una menzogna, dicevo quindi EIA, Club, voguing, a domani!